Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Brawl Stars arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se no, e lascia il hashtag Brawl Stars qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e andiamo avanti con questa nuova puntata ragazzi come avete letto dal titolo ci sono informazioni molto interessanti Brawl Talk e probabilmente nuovo aggiornamento e da alcune immagini possiamo dire anche che sarà bello cicciotto ragazzi ma andiamo prima a farci qualche partita su pezzo grosso con la nostra Anita ragazzi 2-3 partitine Wow, Jessie Draghiera, nuova skin non lo so se la prenderò, boh, chi lo sa può essere, allora intanto ci prendiamo la doppia gemme gratis che non ci dispiace per niente, ok e proseguiamo, andiamo a fare un po' di partita a pezzo grosso va e si entra in gioco, giustamente, a te pare che è morduchino, mai? mai? c'è un dragon che non so se è lui o no, ma non penso, c'ha dei segnetti ragazzi non ditemi che lui, c'è sto con dragonzino ma non penso, perché dragonzino è da poco che non porta cose di brawl ho visto che porta il beatbox allora vediamo se riusciamo a fare qualcosa a questa Shelly ed ora ci manteniamo se uno si chiama bot 1, speriamo che non sia veramente un bot no, è una persona che si chiama bot 1 la nuova moda che chiamasse bot 1 aia, questa mi ha preso di mira e vabbè, e vabbè ce la potemo fare, ce la potemo, dai abbassamolo di corsa ci servono tanti punticini ecco, questa è una di quelle modalità dove si fanno un sacco di punticini dove bisogna spendere veramente tutti i ticket ragazzi per avere tante casse e vi conviene non aprirle perché i brood talk e l'aggiornamento sono molto vicini quindi non sappiamo se c'è qualche bellissimo leggenderio o c'è qualche bellissimo brawler da prendere magari con tutti gli aggiornamenti che hanno scritto pure skin nuove quindi probabilmente non prenderò neanche quella lì di Jesse di skin quella col drago, assolutamente non mi conviene ok quel dragon ha preso un po' di botti sta durando minuto 17 e sta al 28% dovrebbe prendere sufficiente bot ah, che botta che mi ha dato aiae, mo prendo le botte però 16% 1 minuto e 27 forse prima dei 2 minuti dovrebbe andare giù, dai non gli facciamo fare 2 minuti a sta maledetta chissà se Mordughino in queste 3 partite che vedrete riuscirà a diventare big boss penso di no però noi ci proviamo olle Mordughino comunque vi avverto che è arrivato a 10.100 grazie alla mappa nuova ok, l'abbiamo eliminato c'avevo la mira a scarsa per poco faceva 2 minuti e riproviamoci vediamo se diventiamo pezzo grosso te pare te pare che Mordugh è pezzo grosso ma quando mai oggi potremmo non essere pezzo grosso ragazzi perché il video non è incentrato sul pezzo grosso le 3 partite che facciamo sono quelle definitive oh mamma mia è stata stunnata magicamente chiaramente non so bene come però è stata stunnata no ma secondo me non sta attaccando regà no non sta attaccando dai è frizzata poverina non comprendo ok le primo la massacrata sta al 35% regà non è durata niente sta poraccia povera scellina intanto mariano i tiktok della pava e questo sempre perché io ho il tiktok su bluestack per brawl perché lo sapete che bisogna stare su tutti sul loro social perché ogni tanto si inventano qualche giochino o qualche scherzetto quindi bisogna starci attenti a quei furbetti ok e vabbè però santa miseria e va bene però niente è andato verso su è andato verso la toretta ottimo altra partitella per noi giustamente te pare addirittura un certo sky youtube buongiorno signor sky youtube non so se è lei o no youtuber ma andiamo a eliminarlo male proprio perché sei no youtuber tutti con la scelli però ho notato regà eh chissà perché questa scelta tattica eppure non mi sembra che sia tra le migliori però forse perché c'ha il colpo ad aria che è più resistente c'ha diversa vita che fastidiamola con l'orso bravo bravo orso sei servito a quello che dovevi servire a distrarla a distrarre i suoi colpi in maniera che ci colpisse noi eh poi c'è via tutte e due lo spike potrebbe essere interessante effettivamente perché con rallentino la sta giocata tutta là quella eh tanto mi bruda il naso come sempre te pare mentre registra a me mi bruda il naso sarà al fareto forse ok l'ho chiappata manco una volta penso aia prendo botte date dai mi ha preso fino laggiù ok 33% a due minuti non la vogliamo far arrivare sta maledetta assolutamente no dove stai via qua via qua ti ho detto è arrivata eccola 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 sì però ci siamo buttati in faccia come se fossimo immortali e lei ci ha fatto ricordare che non siamo così siamo immortali è chi là che prende un sacco le botte ma ci hanno tirato anche un sacco a noi eccola presa dove vai vai orsetto indica la strada indica la via ok l'orsetto ha tirato un 1% sbaglio wow ultimo colpo mio e si continua ragazzi con i nostri tichettini morduchino non è giustamente big boss ti pare ricordo ragazzi che ancora per 12 ore c'è la mappa che fa salire di trofei andatela a fare la sopravvivenza di oggi con l'energy drink è la soluzione a tutti i vostri problemi se volete salire di trofei specialmente se siete del clan e dovete arrivare alle 6.000 rotte e vi ricordiamo che il clan è stato spostato a 6.500 quindi se ancora non siete a 6.500 c'è il rischio che venite tirati fuori non da me ma dai moderatori che giustamente controllano il canele il canele l'abbiamo visto il simpatico che scappa mazza quanto corre il leone gigante però eccolo sta là sta là l'abbiamo visto dove vuoi andare vieni qui eh però scappa scappa lui scappa eh sta là sta là tranquilli che sta là è bravo a scappare questo potrebbe superare i due minuti sto tizio e te pare via che potevi scappare così te vediamo te vediamo eh puri tu ci provi allora io farei così così il mio orsetto indica la strada eh ragazzi c'ho l'orsetto scemo ah no è perché è invisibile giustamente eccolo è partito è partito sappiamo dov'è preso preso il mio il mio cane da tartufo ha indicato la preda eh però non c'ha la star power quindi non recupererà mai vita il mio sacchiotto maverino eh ho preso un muro bravo Marto il muro è sempre piacevole è steltato stelterino eccolo sta là all'angolo non sta durando quanto pensavo regà pensavo di più forse perché c'ha poca vita il leon come concetto eh io l'ho incastrato di qua però la shelly c'ha poca vita quindi pur se ci andava davanti preso eh però muoio ok 5% 1 minuto e 46 c'è quasi arrivato a 2 minuti è bravo sto leon è bravo 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 flimont ok l'hanno eliminato prima 1 minuto e 52 me ne faccio un'altra ragazzi assolutamente big boss per mordug dai eh mi dovevo andare a nascondere bene però mettite così all'angolino qui perfetto perfetto date non è vero non mi sono dato eh ci avete sperato chi è buongiorno buongiorno siamo pronte a consegne che volevi non l'ho capito muo ripeti muo ripeti orzacchiotto pensa c'è tu te prego preso vai orzacchiotto distraili eccoli che arrivano lo visti lo visti ok vai orzacchiotto fatti valere ma non veni verso di me lo so che ci stavano loro no gli hanno abbassato troppo la vita all'orzacchiotto ah peccato mi stanno massacrando ragazzi mi stanno tanto massacrando aiuto aiuto ok che devi fare le on da solo veramente un po' rischioso ah mamma mia paura mamma mia quanti so no rega io non reggo un cavolo so scarso allo schifo veramente eh sta un minuto e diciannove e già sessantamila di vita basta che mi si avvicinano una volta mi hanno massacrato questo ahia eh beh fatto fattissimo morduk mortissimo ah ok dove vai giù no eh beh mi sono fatto via dai rimbalzi però dai morduk minuto e quaranta oh zitti zitti che forse due minuti li possiamo fa forse forse con un po' di cuore eh no non me lo fanno fa non me lo fanno fa non me lo fanno fa ma hanno fermato prima non è vero stavolta cambio giro no fatemelo fare guarda che schifosi minuto e cinquantaquattro siamo arrivati al momento che tutti aspettavate ragazzi brawl talk air light community manager di brawl stars insieme a frank stanno registrando il brawl talk ragazzi quindi vuol dire entro oggi o entro la fine di questa settimana avremo sicuramente il nuovo aggiornamento e il nuovo brawl talk come vedete hanno messo due immagini molto interessanti della loro zona dove registrano il brawl talk con il loro green screen in cui giustamente vediamo tutti gli sfondi animati carini e il bello è che c'è anche un foglio bello grande a fianco al nostro frank supercell con tantissime informazioni infatti sotto nei commenti di questo tweet hanno messo anche diversi zoom non si capisce giustamente quello che c'è scritto ma guardate quante informazioni succulente e quanti cambiamenti ci sono quindi qua ci saranno sicuramente oltre che dei bug fix molto interessanti anche dei cambiamenti molto particolari e probabilmente ci sarà anche un nuovo brawler perché qua io vedo un sacco di info ragazzi ok direi che questo era tutto per oggi speriamo che sia entro oggi brawl talk e entro oggi l'aggiornamento arriviamo a 1000 like condividere i video iscrivervi al canale se noi lasciare l'hashtag brawl stars qua sotto nei commenti vi riceverò un cuoricino e ci vediamo nel prossimo video iscriviti al canale